Buongiorno a tutti ragazzi, buonasera, sono così in comprensione di Parma Sassuoli e Dervignano in cui è finita 1-0 qualità del Parma. Quindi ragazzi, è prima tempo ragazzi, durante i finali del primo tempo ragazzi, adesso che il quadro ha annullato il gol dell'1-0 di Gervinio, che poi ha deciso il bar di annullare il gol all'attaccante Costa Mariana. E quindi ragazzi, poi il parro ha trovato il gol dell'1-0 di Gervinio, ma anche Sassuolo che ci ha provato fino alla fine. E quindi ragazzi, poi nel secondo tempo, poi ancora un'altra del quadro ha trovato il gol dell'1-0 di Gervinio, ma non ci sono riuscite. Poi ragazzi, poi nei punti finali, ho provato alcun altro gol, po' rabbia, che fa vincere il Derby Milano al Parma. E quando la lancia l'autorete da parte del Sassuolo, il Parma inizia il Derby e si porta tre punti che non cambiano. E quindi il Sassuolo rimane all'indiecesimo posto. E quindi ragazzi, è stata una città molto strana da parte del Parma che, anche nel stesso tempo, ha deciso di avere un gol di Gervinio, ma il secondo tempo non riuscite a trovare il gol che sperava nel gol del vantaggio. E il Sassuolo invece, il Sassuolo, il Sassuolo, il Sassuolo, ha giocato una 30 partita, un brando derby, ma il Parma invece faceva avere una grande vittoria. Da cui il Parma, da cui il Sassuolo, è stata una grande vittoria contro la spalla. E quindi invece il Parma inizia a Rio, da una partita molto. E quindi ragazzi, è una diversa situazione però del Parma che si porta a casa una grande vittoria. E quindi ragazzi, vediamo un po' come si accadrà il Parma in questa stagione. Sassuolo, il Sassuolo, è stato un po' bevente in questo derby, ma comunque ragazzi non c'è, non è bene sperarsi. E quindi ragazzi, dovevano fare molto di più il Parma, da cui sono state diventate moltissime occasioni, ragazzi, che potevano la lì a mezzo un po' con lontano. Tra cui quella del Parma, ha invitato un po' di scingere un po' questo derby. Il Sassuolo, invece, ha lasciato la parata della fine, ma lo stesso ragazzi, è stato un bellissimo derby in Milano. E quindi ragazzi, che dire, quindi ragazzi, ma vediamo un po' nella prossima partita, come cosa che erano le due squadre, stavano la vittoria in Parigi, ho una scopita, ma questo lo vedremo un po' più avanti. Quindi ragazzi, che dire, allora è tutto, oggi non ci vediamo, sicuramente con la prossima partita sia. Quindi ragazzi, è tutto, vi lasciamo il like, vi è tutto, ciao ciao. Grazie.